Ciao ragazzi e benvenuti sul canale! Il gioco di oggi è dal Parlamento di Sparcast e Chess 2018 che si tratta in Germania Dortmund. Il gioco, un bello Sicilian Rossolimo, è Nisipiano vs Duda e è stato giocato in mattina. Nisipiano è un giocatore di giocatore di 41 anni, con un giocatore di 2672 e Duda è un grande grande maestro di Polonia, con un giocatore di 2737. Siamo ascoltati più e più da Duda perché è piccolo e forte. Ma ora, cominciamo con il gioco. E4 per Nisipiano, c5 da Duda, la defensa Sicilian. Nf3, d6. Bishop in b5, c5, De Rossolimo. Bishop in d7. Bishop capture with check. Queen capture in d7. Castle for white. Knight in f6, attacking the pawn for black. Rook in e1, che sviluppa il rook e defende il pawn. Rook in e1. E5, che forza D capture in e5. Knight capture in e5, attacca la queen. e ora la queen black può andare in molti quadri. Ma le due migliori sono la queen in c8, con meno mobilità per la queen, ma la queen resta nei quadri light. o la queen in c7, con più azione. Possibile per la queen, ma la queen è forza di abbandonare i quadri light. e resta nei quadri dark. Ok? So... Rook in e1. Knight in c6. C3 per white. E6. D4. Leري... d5... In realtà the white instead of playing e5... Può giocare il knight in e5, e il nero non può capire il knight, perché se capisce il knight in e5, poi D capisce il knight in e5, per farlo l'altro knight. Il knight è forza di andare in g8, e ora, dopo E capisce il knight in e5, il bianco è meglio. Inoltre, dopo il knight in e5 per il bianco, il bianco è il queen in c7, ora E capisce il d5, e il knight capisce il d5, e il bianco mantiene un piccolo avvantaggio. Quindi, dopo D4, la buona forma di capisce il tipo siciliano. C capisce il d4, c capisce il d4. D5, attacca il paese la seconda volta, ma anche frea il bishop. e5, attacca il knight, e il knight potrebbe saltare in e4, ma l'ultima faccia è di tornare con il knight in g8, e poi lo rilogare, e questo manovere sembra meglio. e3 per il bianco, knight in e7, come abbiamo detto, il bianco comincia il manovere per rilogare il knight, knight in c3. h5, questo è un po' un movimento oscuro, perché abbiamo detto che il bianco vuole rilogare il knight in f5. e magari h5, che controlla il g4, evitano il g4 per il bianco, anche se sembra un po' unlikely che il bianco avrebbe avuto questo rischio rischio. comunque, dopo h5, bishop in g5 per nisipeano, duda rilogare il knight in f5, rook in c1 per bianco, perché il rook prende controllo dell'open file, bishop in e7, e in questa struttura, c'è un po' un po' di perdere il bianco, ma dove lo mettere? questo bishop non ha buoni quadri per dove andare. quindi, dopo bishop in e7, b capta in e7, queen capta in e7, queen in d3, ora completando il sviluppo, e in questa posizione, il bianco non può costruire il bianco, perché c'è questa piccola combinazione, il knight capta in d5, e se ricapta con il bianco, il bianco defende il knight, e quindi la queen può costruire il knight, e il bianco, se il bianco è costruire il bianco, avrà un bianco. quindi, perché dopo queen in d3, il bianco non può costruire il bianco, ma non perde tempo, e il castello è lungo. In questo caso, vedete che il rook protegge questo ponte, quindi, in caso di capta, il bianco di capta con il rook, e il bianco è perduto. ok, dopo il castello è lungo, il primo movimento con l'opposizione del bianco, che viene a mente, è di pulire prima, e in effetti è un buon movimento, ma Nisipiano spiega un altro buon movimento, che è il knight in a4, con l'idea di pulire in c5. ok, il king in b8 per il bianco, perché il king si spiega dall'open file, dove il bianco ha anche il rook, il knight in c5, quindi il knight ha raggiunto l'outposte, e il g5 per il bianco, quindi anche il bianco ha iniziato l'attacco sul bianco. ora il problema per il bianco è che, nel prossimo movimento, per il bianco, il g4, attacca il knight, e quindi il knight è forza di andare, e quindi il g4, quindi il g4, il knight, dalla defensa del d4, e... Nisipiano spiega il rook, in c3, e questo è un errore, perché è così. Inoltre, questo è, inoltre, il movimento che perdono il gioco, perché, inoltre di rook in c3, la idea giusta è di giocare b4, perché, dopo il g4 attacca il knight, abbiamo b5 attacca il knight con un gioco uguale. Ma Nisipiano non ha visto questa idea, ha giocato il rook in c3, ora il g4, ripetendo il knight, il knight muove in d2, il knight, che era in c, capturato in d4, il rook in c1, doppia i rooks sul file c, il rook in c8, il knight in f1, il rook in c6, anche il bianco, per il manovere dove ha doppia il rook sul file open, c5, il knight in g3, quindi, vedete la tensione tra le due knights, ma il bianco non è sbagliato, perché questo knight è giocato dall'altro knight, il king in a8, il knight captura in f5, il knight recaptura in f5, il b4, il secondo rook va in c8, il b8, 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 c6, il b8, il b8, il b8, il b8, il b8, il knight è sbagliato, il b8, il c3, il c3, il c3, il c4, Ora il problema è che se la queen si entra in c8, checkmate, quindi black deve controllare il quadro prima che questo terribile evento succeda, quindi king in b7 controlla il quadro c8, a5 now, queen in d7, knight in d4, e questo è un'altra inaccurazione, perché se lasciate black cambiare tutto, e anche tu sei forse a recapturare con la queen che resta l'open file, quindi l'open file sarà occupato da black queen, ora il problema è checkmate in c1, e dopo questo move white resigns, perché sarà forcato a cambiare la queen in un'endgame, e con questo move finiamo anche il nostro commentario, spero che avete piaciuto il game, e se l'ho fatto bisogna lasciare il video e iscrivetevi al canale, perché ho molti altri grandi games per mostrarvi, per ora, grazie per la visione, e ciao! Bye!